Adesso andiamo da Alessandra Canale. Quali sono le novità? Buongiorno a te. Buongiorno Giusefine, buongiorno ai nostri telespettatori. Sulla rete abbiamo flussi veicolari vivaci, anche se condizionati a tensione dalla nebbia, sulla A24 tra Torni in parte e Assergi, ma anche tra Carsoli e Tagliacozzo, e sulla A26 tra Magliano De Marzi e Avezzano. Peraltro la protezione civile ha diramato per oggi un'allerta per rischio temporali di colore giallo su Abruzzo, Lazio, Molise, Basilicata, Calabria e Sicilia. E anche le previsioni del tempo, comunicateci dell'Aeronautica Militare, indicano tempo incerto al centro-sud e tirrenico e sulle isole con qualche possibilità di piogge temporali, tempo buono soprattutto al nord. Dicevo, flussi veicolari vivaci su gran parte delle nostre strade, monitoriamo proprio l'A4 all'altezza dello Svinco di Sesso San Giovanni, come vedete appunto c'è una circolazione vivace. Anche alle porte della capitale, esattamente sulla 1, la Roma-Napoli all'altezza di Colleferro, invece abbiamo un traffico, come vedete, un pochino più sostenuto in entrambe le carreggiate. Abbiamo due segnalazioni, una segnalazione di un incidente sulla strada statale 106 Ionica che sta generando dei rallentamenti per un incidente verificatosi in prossimità di Metaponto. E poi un altro ripristino incidente sull'A14, si sta lavorando proprio per ripristinare il manto stradale tra Porto Sant'Elpidio e Fermo in direzione Pescara. Ecco, Giusefine, queste le notizie di maggiorilievo. Grazie per l'attenzione, buona giornata a te i nostri telespettatori, l'appuntamento è tra circa un'ora, arrivederci. Buona giornata a te Alessandra, adesso passiamo a Giorgio.